E' la mia pistola preferita! Vabbè, è ancora vivo, ma credo che avrà bisogno di affetto e di tante cure. Mi ha fatto succedere con una di queste. Davvero? Sì, insomma, speravo che l'ultima cosa che avessi detto fosse... E' la mia pistola. Non lo avessi detto, non ci si può continuare. Chiaramente. E' la mia pistola. E' la mia pistola. Sì, carina, odio quella ragazza, che ne pensi se dopo la missione uccidiamo tutti quei bambini galleggiati, perché i bambini fanno paura, e chi sono per gli ciclopetti da Luca? Dammazione! Ragazzi, non posso crederci, sono io! Aplausos